La mia vita è la mia vita e le sensazioni di questo movimento il movimento del telastro il movimento del telastro il movimento del telastro questo è di lasciare la testa con le macchie, con tutte le amiche per olvidare che il testo e che il testo è ovile durante 7 minuti c'è un mondo materiale e c'è un mondo sutil con le forze oculti il primo passo è mettere un piede è dire, scubrire come sto quando si vanno con la caja Natalia e dice al astròlogo a aver interpretamento quando si vanno a qualcuno e dicono o quando si vanno a prender cada situazione adversa lo che sta provando e lo che mi sta mostrando è dove sta la mia sombra i due stanno immaginando uno dice che questo è così e il altro dice che è così il trattato la prima l'intento il trattato il trattato ...commo... 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 ...commo il respiro... ...permi sentire una via... ...con la pelle... ...y la cabeza hacia adentro... ...voy a altear coluna hacia afuera... ...el San Madri... ...es algo posible para todos los mortales... ...no es algo exclusivo para el San Madri... ...no es algo exclusivo para el San Madri... ...empieza a conectar... ...en una zona para afuera... ...empieza a decir alguna... ...cuando meditamos... ...intentamos disolver... ...el espacio de afuera... ...es una persona sabe... ...preguntar... ...sabe hallar la pieza... ...cuando la música comience... ...que vamos... ...con los ojos cerrados... ...a soltar la cabeza... ...sólo para que su cuerpo... ...sienta la presencia... ...de todo. Adiós... ... ehé... ...ahé... Grazie a tutti